Ma faccio il balcone, ma faccio per vedere, sento a bussare le porte domandando la carità. Chi è? Chi è? Che bussa? Chi bussa il mio porfino? Sento a bussare le porte domandando la carità. E' un pellegrino via che domanda la carità. Ovvia la mia figlia, dai un pezzo da qua, e poi mandalo via in santa pace carità. Ovvia la mia figlia, dai un pezzo da qua, e poi mandalo via in santa pace carità. Ovvia la mia figlia, mi vuole toccarle ma. 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 La mia figlia è solo un realtà Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar Chissà che non sia quello che tu abbia da sposar